Cominciamo dal 18 febbraio 1990, allenatore Eddie Rea finisce 3-0, il primo gol in maglia biancazzurra di Michele Gelsi, il destro all'angolino che segnerà 49 nella sua lunghissima militanza in maglia biancazzurra, 9 stagioni, tutti gol di ottima fattura, il raddoppio di Pasquale Traini, attaccante dell'epoca. 10 marzo 1991, sempre Serie B, Pescara batte Cosenza 2-0, allenatore Galeone, il calcio di rigore, una mano galeotta vista dall'arbitro Quartuccio di Torre Annunziata, parte dell'ex della contesa Gigi De Rosa, il rigore trasformato da Eddie Bivi, il primo gol con la maglia del Pescara, campionato 90-91, Galeone aveva sostituito Carletto Mazzone, esonerato nel girone di andata, il raddoppio dello stesso Eddie Bivi che va via a catena, poi scomparso prematuramente è il sinistro incrociato ad infilare Vettore, portiere della Cosenza di quella stagione. 1991-92, Pescara batte Cosenza 3-1, il Pescara di Galeone riesce a conquistare la seconda promozione, targata Galeone in Serie A, ma sbaglia un rigore, Oberdan Biagioni, bravissimo nella circostanza Savorani, eravamo solo 0-0. Poi c'è l'espulsione, il doppio giallo per un giocatore della Cosenza, il Pescara ne approfitta, c'è il primo gol, l'assist di Pagano per Totò Nobile, il secondo gol in fotocopia, si scambiano praticamente i ruoli Pagano e Campone, l'assist questa volta di Campone per Eddie Bivi, 2-0 Pescara, Eddie Bivi che raddoppia e poi il terzo gol di Totò Nobile che si mette in proprio, il sinistro preciso sul palo di competenza in realtà del portiere, Pescara 3, Cosenza 0 e poi il grandissimo gol di Gigi Marulla, compianto scomparso qualche stagione fa. Il 3-1 dunque del Pescara sul Cosenza, il gol della bandiera di Gigi Marulla. Qui siamo nel 98-99, il gran colpo di testa, allenatore Gigi Decagno, Pescara 1, Cosenza 0, sempre Serie B, il cross, l'assist, il cross molto bello, preciso, calibrato di Michele Baldi e il colpo di testa, dicevamo, di Mauro Esposito che riuscì a segnare in quella stagione 13 gol, Mauro Esposito stretto collaboratore di Luciano Zauri nella primavera. Questo è l'ultimo confronto all'Adriatico Giovanni Cornacchia, 3 aprile 2010, c'è l'espulsione di un giocatore del Cosenza, doppio giallo Chianello, sul punto di battuta Massimo Ganci, 1-0 Pescara, Pescara guidato da Eusebio Di Francesco. Ultimo confronto, ripetiamo l'Adriatico Giovanni Cornacchia, qui sfiora il raddoppio, Emanuele Sembroni, grande parata della portiera del Cosenza, il raddoppio, il 2-0, Dettori per Bonanni, spaccata in anticipo sul suo di ripettaio, Marco Sansovini al secolo il sindaco e poi il grandissimo gol, un gol da urlo di Massimo Bonanni, grande protagonista di quel match.